Forza Italia ha incontrato gli elettori ad Ariano Erpino alla presenza del responsabile nazionale sviluppo e innovazione del partito Angelo D'Agostino, il commissario regionale Fulvio Martuscello, la candidata del plurinominale al Senato Giuliana Franciosa e il coordinatore provinciale e candidato degli azzurri Carmine De Angelis. Nel faccia a faccia con i cittadini i temi del caro vita, del lavoro, della sanità, lo sbando e la necessità del recupero di azioni concrete da parte della politica per dare risposte ai problemi, soprattutto nel mezzogiorno. Abbiamo un problema sull'energia che attanaglia non solo le imprese produttive ma anche e soprattutto i cittadini, quindi è un problema molto serio e spero che in qualche modo queste nuove misure prese possano soddisfare e ci sia un calmeramento di quelli che sono i prezzi. Lei è irpino e come tale conosce molto bene la situazione delle aree interne, cosa può fare Forza Italia per far uscire queste aree dall'isolamento? Le aree interne bisogna prenderle su serio, non predicarle solamente, io credo che Forza Italia con rappresentanti del territorio possa portare la voce dei nostri territori a livello nazionale, rappresentanti del territorio che faranno parte di un governo centrale potranno dare voce a questi grandi progetti che sicuramente possono avere uno sviluppo enorme. Il 25 settembre si avvicina, cosa si aspetta dalla sua terra? Ma guardi, io credo che avremo un ottimo risultato, almeno nei sondaggi sembra così, la gente è motivata, io mi sento di fare un appello un po' a tutti perché credo che il più grosso partito è quello che non va a votare, quindi bisogna sensibilizzare le persone perché votare votare è un diritto civico ed è giusto che tutti esprimino la loro volontà indipendentemente per chi, ma è giusto che ci vanno a votare perché questo è un segnale non positivo e quindi è importante, io quindi l'appello che faccio dico il 25 settembre tutti quanti a votare.